fondamentale, appunto un elemento inquinante che questa amministrazione deve assolutamente monitorare. Parliamo dell'amianto, noi negli anni precedenti quando eravamo all'opposizione abbiamo presentato un atto dove chiedevamo di effettuare una mappatura di tutte le aree dove fosse presente l'amianto e è una battaglia che sentiamo fortemente. Noi come Commissione Ambiente abbiamo richiesto l'istituzione di un tavolo per la terra dei fuochi, per questi incendi che incombono chiaramente nella nostra città, nella capitale d'Italia e siamo contenti perché questo tavolo a breve verrà istituito, perciò l'indirizzo che noi politicamente abbiamo dato nella Commissione Ambiente è stato recepito dagli uffici. Oggi abbiamo eseguito un sopralluogo nel parco di Centocelle, un tema che comunque ha investito anche questo Consiglio e la Commissione ha evidenziato delle criticità e una situazione ambientale molto critica, molto importante che comunque dovrà affrontare. Questo dell'amianto è sicuramente un compito anche da parte degli uffici del Dipartimento Ambiente che avrà un compito ardo per censire o comunque per monitorare le aree dove ancora è presente questo elemento che ricordiamo è inquinante soltanto se viene sfregato, ma ci sono anche vari tipi di amianto che non sono inquinanti, o comunque danosi per la salute, dobbiamo anche dire questo. Però sicuramente è un tema importante che comunque riguarda la salute di tutti i cittadini e che sicuramente sarà oggetto di questa Commissione. perciò io prego anche i consiglieri o comunque i commissari che sono presenti nella Commissione Ambiente da essere onesti intellettualmente per dire che comunque come lavoro è un lavoro importante quello che sta portando avanti questa Commissione, forse è un lavoro che anche negli anni è stato preso sotto gamba. Quello che ci troviamo di fronte è una situazione comunque abbastanza complicata perché censire aree dove è presente l'amianto in tutta Roma non è un compito molto facile, però sicuramente è un qualcosa che dobbiamo fare. Prendiamo atto di questa mozione che, ripeto, è un atto politico condiviso e condivisibile per questa maggioranza e sicuramente a breve convocheremo una Commissione Ambiente per affrontare il tema e per chiaramente risolverlo al meglio. Grazie. Anche questo è un atto importante che marca un indirizzo politico ben chiaro e ben preciso. Noi anzi, come Movimento 5 Stelle, in questo frangente, in questo tema della discarica di amianto a Ponte Mannome, abbiamo svolto un lavoro sinergico con tutte le parti coinvolte, perciò anche i livelli istituzionali del Municipio 11 e del Municipio 12 che hanno convocato un Consiglio congiunto proprio per dire no a questa discarica, presentando appunto un atto ben chiaro e specifico. Ecco, oggi ribadiamo questo no con questa mozione voluta fortemente da questa maggioranza e dalla Commissione Ambiente che, ricordo, ha già convocato una Commissione dove ha udito il Dipartimento Ambiente su questo discorso, appunto sulla discarica di amianto e ringraziamo anche il lavoro degli uffici, perciò il lavoro che comunque è stato speso per questa battaglia e per questa iniziativa che chiaramente ha visto coinvolti, a parte la parte politica, anche molti cittadini. Ricordiamo che la zona di Ponte Mannome è una zona avvessata, fortemente depauperata o comunque succube anche di quello che è stato poi l'ex discarica di Malagrotta e questo atto delinea, stabilisce un punto fermo e imprescindibile che è quello che questa zona non deve più soffrire, non deve più essere preda di questa impiantistica o di queste situazioni ambientali che portano soltanto disagio alla cittadinanza. Perciò diamo adito a questa maggioranza o comunque anche alla Commissione Ambiente che su questo tema ha svolto un lavoro importante di greggio, perciò ringraziamo tutti i commissari sia di maggioranza che di opposizione che chiaramente hanno dato il loro contributo importante e fattivo per la realizzazione di questo atto. Grazie.